all belle arti tutto shane questa è arte per te ciao a tutti e bentrovati sul canale secondo appuntamento con l'all shane dedicato ai prodotti di belle arti questo sito che ho sempre conosciuto per i più disparati articoli di recente mi ha conquistata per il suo comparto belle arti amplissimo ricchissimo pieno di cose fantastiche vi lascio qui il codice sconto se vorrete approfittare di qualcosa 15 per cento di sconto su tutto il sito non soltanto su belle arti ma su tutto il sito senza minimo di spesa mi hanno inviato delle cose bellissime che ho scelto molto accuratamente e che adesso vi farò vedere prima però mi preme ricordarvi che vi aspetto in libreria con il mio libro il ricettario dell'arte all'interno del quale troverete una raccolta completissima di ricette per farvi in modo autonomo tutti i materiali dell'arte in maniera professionale ed ottimale bene adesso cominciamo subito a vedere le cose che ho scelto su shane solo alla fine del video aggiungo qualche altra considerazione e mi soffermo a parlare un po di più con voi il primo articolo che ho scelto è questo qua visto così non dice granché ma adesso vi faccio vedere voilà è un cofanetto tutti i prezzi e i link li trovate qui giù che contiene una tavolozza è una raccolta è una raccolta di colori acrilici allora ho fatto dei tester off camera devo dire che si comportano abbastanza bene devo però stare un po di più accuratamente a stressarli ma da una prima prova devo dire che sono dei buoni colori voglio capire se sono ottimi e sapete bene che se sono ottimi vanno stratificati fatti asciugare stressati ben bene supporti particolari il costo era molto interessante sicuramente per la scolastica e per lobbistica sono fantastici adesso bisogna vedere anche se per gli artisti andranno bene ma già come collezione iniziale per imparare a dipingere per prendere le misure con il mondo del colori acrilici è una selezione molto completa perché dico che è una selezione molto completa perché ai primari si affiancano anche i colori comuni quello che noi chiamiamo blu quello che noi chiamiamo rosso ma c'è anche il magente il giallo primario e il blu ciano quindi è una selezione cromatica che lascia presumere uno studio molto attento del colore vedremo cosa ne uscirà in un prossimo video che vi dedicherò meraviglia delle meraviglie io le ho provate sono fantastiche ma già solo la scatola allora vi faccio vedere come arrivano tanto per renderci conto scatola di cartone completamente imballata di chiamiamola così gomma più ma non è gomma più ma che protegge la latta che le contiene avrete già capito che sto parlando di matite colorate ma guardate qui che meraviglia della color 120 matite colorate acquerellabili sono stupende la confezione recita vibranti colori solubili all'acqua facilmente miscelabili resistenti acid free e non tossiche molto spesso quando recensisco materie prime di shane mi vengono opposti dei commenti dove dice ma se sono tossici no perché prodotti che presento sia questi che di abbigliamento che di qualunque altro hanno nella descrizione degli articoli la specificazione che non sono tossici e voglio credere a quello che leggo perché mi fido dei controlli che vengono fatti comunque su questi materiali guardate la cura di questo cofanetto in latta con i sample stappati il blocchetto per creare i vostri colori le vostre corrispondenze dei colori averli sempre a portata di mano all'interno della confezione oltre al blocchetto per esempio il troverete due pennelli non eccezionali e adesso andiamo a vedere com'è composta la confezione voilà ci sono una serie di vassoietti di colori impilati si prendono facilmente dalle scanalature e in questo ci sono uno è bellissimo uscire vassoietti di queste confezioni 23 guardate che bei colori guardate che bella selezione cromatica 4 e dulcis in fondo 5 tutte matite acquerellabili quindi sono vi dico le caratteristiche delle matite morbide pastose bellissime da usare asciutte molto miscelabili tra di loro le tinte con una carica cromatica bagnate pazzesca una selezione cromatica amplissima il che vi faciliterà il degradare delle sfumature un ottimo prodotto a un prezzo piccolissimo tutte le cose che vi faccio vedere oggi sono dei fantastici regali per le prossime festività di natale fatevi una wish list fatevele regalare non costano tantissimo quindi non farete svenare le persone che ve le regaleranno ma avrete dei prodotti veramente veramente buoni altra cosa non perdono le punte perché ho avuto modo di testarli e non mi è rimasta nel vari test neanche una punta in mano ma questo dipende anche molto dal corriere che ve le porta a casa e allora ma questo in generale dalla distribuzione che ne hanno devo dire che queste sono molto attenzionate nell'imballaggio ottimo prodotto bellissimo packaging bellissima la matita andiamo avanti altro scatolo di matite vi faccio vedere anche questa in una scatola di cartone e imballato così questo è molto grande ragazzi questo è molto grande prendete pop corn perché l'esplorazione di questo sarà molto lunga prendo qui e guardate questo è un regalo che vi dovete fare fare per forza anche in virtù della partecipazione a un corso di disegno un corso di tecniche pittoriche non necessariamente miei ma sappiate che i miei corsi sono stanno per iniziare quello di disegno è già cominciato ieri ma ancora un pochino le iscrizioni le tengo aperte su arte per te corso di disegno tecniche pittoriche corso di acquerello corso di pittura ad olio corso di iconografia e corso di critica d'arte interpretazione delle opere d'arte vi aspettano contattatemi su facebook tramite messaggio privato se volete concedervi una parentesi di arte creatività che dura un anno nel caso del corso di disegno dura cinque anni e queste devo dire che sarebbero un bellissimo regalo ora io in tutta la mia carriera e devo dire che oramai ridendo e scherzando sono 25 anni che bazzico nel mondo dell'arte a livelli sostenuti non avevo mai tenuto tra le mani una confezione di matite colorate da 300 pezzi e sapete perché perché non ho mai voluto investire un capitale in una cosa del genere perché una costano tantissimo queste hanno un costo si meno di 100 euro ma comunque un costo alto è un bel regalo ma 300 matite di ottima qualità guardate che bella la scatola intanto ve la faccio vedere uguale con tutti i vassoietti disegnati e tutte le confezioni della gamma quindi qualora voleste capire cosa produce questa marca la color ecco vi faccio vedere i sample dei colori piccolini perché sono tanti ma il blocchetto per farvi i vostri sample e da qui capite la grandezza della scatola questi sono tutti i toni contenuti non c'entriamo nell'inquadratura io mi sento ve lo giuro cioè io ormai non dovrei più essere suscettibile al fascino delle matite colorate in plateau cioè non mi dovrei sentire ipnotizzata dalla vibrazione del colore in scala tonale e invece avendo questa confezione davanti ai miei occhi è da quando è arrivata che non faccio altro che guardare i vari vassoi tirarli fuori e reinserirli nella scatola tipo una bambina di cinque anni ma voglio far provare questa goduria anche a voi preparatevi queste sono matite colorate normalissime texture morbida sono delle matite molto morbide molto blendizzabili soft touch le definisce premium colored pencil sono matite colorate gamma premium for expert per esperti artisti artist premium quali ricche e vibranti soffici cioè morbide e sfumabili e non tossiche tutto scritto qui in bella vista iniziamo con la carrellata primo vassoio no ma guardate il numero dei gialli no ma guardate secondo vassoio ci sono anche i fluo io mi emoziono terzo vassoio tutto con i toni del blu quarto vassoio cioè c'è un vassoio per ogni tono che meraviglia vanni viola arrivano altri e voilà ma quanti sono i viola ci sono viola di ogni tono e sottotono guardate che belli una scatola di queste e non vi servono più colori a vita ma questa 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 questo vassoio il vassoio delle ombre dei sottotoni è meraviglioso voi non avete idea della potenzialità di questo vassoio che sembra il più spento alla vista ma che è uno dei più utili mai visti nelle confezioni di colori qua ci sono tutta la gamma delle ombre e dei sottotoni bellissimo bellissimo questo è il vassoio della tridimensionalità poi cominciano i colori pastello che cominciano anche lì coi grigi guala guardate che meraviglia che sono isolati proprio perché vi indicano che sono pastellati e che quindi hanno una componente di bianco e poi c'è qualche rinforzo cromatico a contrasto che meraviglia finiti dai alla fine non sono poi così tanti solo 300 ci sono anche i metallici all'interno guardate che belle le matite e sono bellissimi proprio come dicono morbidi fluidi facilmente sfumabili bellissima anche queste scatole latta old style sono meravigliose complimenti complimenti veramente a shane per la selezione di questo fornitore la color mi piace moltissimo prendo un paio di forbici per aprire due blocchi ho voluto provare la carta da acquerello academy water color paper pad 300 grammi puro cotone da usare per acquerello pittura disegno a penna tutte le tecniche umide wash in painting resistente agli sfregamenti del pennello bianco naturale e sono le prese in due texture sono 100 per cento cotone e acid free quindi delle carte stupende apriamole insieme apriamo allora questa è la prima pagina di copertina quella che protegge il blocco già avere questa prima di copertina protezione del blocco ragazzi è sinonimo di altissima qualità come indica si apre da qui si tira ed ecco la protezione poi per le pagine bellissima la grana è una grana molto bella media non è super fina ma non è neanche grossa non ricordo l'altra che ho scelto direi che a vederla così è una bellissima carta ma la useremo insieme quanti fogli sono 20 fogli 20 fogli bellissimi anche il blocco è molto molto bello riecheggia proprio di carta seria e la copertina si differenzia nel colore per la grana anche questi sono 20 fogli da 300 grammi ma la grana di questa rossa è diversa le caratteristiche sono le stesse anche questo è puro cotone 100% rosa che meraviglia apriamo il foglio di guardia e questa è liscia quella era rubida questa è liscia stupenda morbida vellutata spessa al tatto è una carta molto seria assolutamente con una texture regolarissima questa è quella che io preferisco io preferisco sempre le carte con texture più liscia rispetto e con quella più grumosa ho preso una liscia e una media ce n'è anche un terzo tipo mi pare che sia arancione la copertina che ha una grana ancora più spessa ottime consigliatissime le proveremo insieme poi ho preso dei pennelli da strapazzo diciamo perché tu prendi dei pennelli da strapazzo ragazzi per mettere la missione per miscelare degli degli smalti per tutte quelle preparazioni che necessitano dei pennelli da sacrificio ma che volete comunque buoni cioè in buono stato questi qua dei pennelli in multivisura ma costano veramente pochissimo un euro tutta la confezione una cosa veramente infinitesimale questi dovete averli sempre per non rovinare i pennelli buoni qualcuno ha detto pennelli buoni eh sì ho fatto la monella questa volta non ho spaziato soltanto nel mondo dei colori ma sono andata anche oltre carte pennelli ho preso questa confezione di pennelli guardate qui ancora non non avete visto nulla allora voilà qua si sente molto no molto si sente l'odore della plastica di cui è rivestito l'astuccio ma la plastica di cui è rivestito l'astuccio a me piace moltissimo perché quando riponete le punte bagnate dei pennelli non vi si impiastriccia tutto l'astuccio e allora guardate questi pennelli vi faccio vedere ve li prendo un prezzo super abbordabile una sorta di sintetico di martola sintetica super elastica molto 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 belli una gamma di pennelli completa punte quasi tutte punte piatte ma ci sono anche molte punte tonde pennelli a ventaglio ottimi per l'acquarello per gli acrilici per l'olio per le tecniche pittoriche in generale pennellessa per i fondi spatolina per la materica c'è tutto guardate vi faccio vedere le punte tonde quindi pennelli più grandi con una bella anche punta quindi ben chiusi cioè sono pennelli molto belli una bella ghiera un bel manico curato molto molto belli molto ben fatti molto molto ben fatti entusiasta dell'acquisto anche questi li proveremo insieme prossimamente e anche questi possono essere utilissimi per voi che vi approcciate ai corsi di arte per te per non spendere patrimoni e avere un corredo soddisfacente e allora che fai non la prendi una confezione di penne con tutte le punte per eseguire questi lavori e sì che le prendo ottime provate scrivono tutte tutte benissimo vi farò dei quadretti con queste così le vedrete all'azione un prezzo irrisorio ne compro due di quelle che uso solitamente e invece qui ho ricevuto tutta la confezione le vedrete all'opera molto presto se voi come me vi dilettate nella doodle art nello zentangle art acquistatele sono fantastiche e i dulcis in fondo ho conservato una cosa che non ho mai posseduto nella mia vita e che non sapevo nemmeno esistesse come raccolta sempre della color metallic le matite metalliche tutta la gamma di 50 matite metalliche soft touch premium expert premium quality ricche vibranti punta morbida e non tossiche anche queste che meraviglia che meraviglia guardate e poi queste hanno elastico nel vassoietto per farmi tirare fuori che belle che belle tutti i colori così questi sottotoni stupendi finiti solo questi ma bellissimi e beh dico solo questi perché dopo che ho visto quella da 300 stupendi stupendi dall'altro hanno tutte le intensità di pigmentazione sono tutte di intensità da 4 più in su quindi 4 più e 5 più stupende che è anche l'intensità della tenuta alla luce e alla specchiatura della luminosità della del metallico le volete provare vera in un video faremo prestissimo un video per usare queste perché sono delle matite inusuali bene questa è la mia selezione su shame vi lascio qui giù il link per vedere ogni singolo prodotto il codice sconto e mentre andate in giro sul sito se guardate in giro qualcosa che vi incuriosisce e che vorreste vedere o vorreste farmi provare lasciatemi lo scritto qui giù tra i commenti lasciatemi scritto anche altre due cose primo cosa vorreste vedere per prima e tra le cose che vi ho mostrato e secondo qual è la cosa che vorreste avere in regalo per natale cosa vi piacerebbe possedere devo dire che io avrei l'imbarazzo della scelta ma le matite tutti e tre i pacchi mi hanno rubato il cuore anche i pennelli anche gli acrilici tutto è bello ma se io dovessi scegliere i tre pacchi di matite li acquisterei ad occhi chiusi e assentore mi sa che anche lei mi darà grandi grandi soddisfazioni proveremo tutto insieme bene fatemi sapere le vostre preferenze se vi piacciono questi video oppure se vi annoiano perché in tal caso io smetto di farli e a me piacciono moltissimo bene non mi rimane che salutarvi rimandarvi al prossimo video darvi appuntamento su tutti i miei social arte per te qui su youtube se non si è iscritto pigia iscriviti e clicca sulla campanella il mio canale ombretta di lifestyle dove potrei vedere tante cosine carine per esempio se vuoi sapere dove ho preso questi orecchini li ho presi su shane ma ve ne parlo in un video che ho pubblicato di recente sul canale ombretta lo so lo so che li stavi guardando dopodiché vi aspetto anche sul mio canale di cucina due cuore una k vi aspetto su tiktok arte per te tiktok arte per te instagram e arte per te su facebook vi aspetto sui miei social vi aspetto ai miei corsi per informazioni scrivetemi su facebook e vi aspetto anche in libreria con il ricettario dell'arte edito da gribaudo insomma vi aspetto sempre qua per il prossimo video creativo ciao ciao